buongiornissimo tutti quanti questa mattina si bolle di caldo fa troppo troppo caldo troppissimissimo caldo ieri sera ha diluviato era già fresco invece stamattina fa molto 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 caldo scopriamo assieme quanti che raggiano fuori lunedì 12 giugno 2023 ci saranno 35 gradi 11 10 54 circa come sono avanti 39 gradi di meno pensavo 39 gradi alle 11 a 10 47 fighe tanto e senza raggiungo siamo siamo a luglio augusto quando i gare sono al mattino al mattino 50 gradi al mattino e poi meggio 80 vedremo vi auguro una buona giornata a tutti quanti comunque mi è appena arrivata la notizia di Milano Todei che Silvio Berlusconi è deciduto condoglianze alla mia sua spiega a fare il funerale che ci voglia andare una brava persona Silvio Berlusconi ha fatto la storia ha fatto purtroppo nessuno è mortale purtroppo la ruota che gira e vabbè condoglianze alla sua alla famiglia e ragazzi ci sentiamo più tardi ciao a tutti buona giornata ciao ciao